carissimi fratelli e sorelle e amici cari pace del signore buona giornata a tutti quanti voi oggi primo novembre inizio nuovo mese leggiamo un verso molto bello quello che si trova in prima giovanni capitolo 4 al verso 8 dove è scritto che chi non ama non ha conosciuto dio perché dio è amore e credo che quest'ultimo concetto il fatto cioè che dio sia amore è uno di quelli più conosciuti anche perché di esso se ne parla spesso e se ne parla sicuramente a giusta ragione perché dio ha mostrato di essere amore e lo ha dimostrato con un gesto generosissimo vale a dire ha dato suo figlio per la nostra salvezza infatti leggiamo in quello che è il verso definito come il sunto di tutto il messaggio biblico che dio ha tanto amato il mondo che ha dato i suoni genito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna e quindi possiamo dire che quest'amore è un amore smisurato un amore che dio mostra verso l'uomo un amore che è frutto della sua stessa natura e allora se siamo stati tanto amati da parte di dio noi non dobbiamo e non possiamo avere delle riserve nel mostrare quello che si chiama amore cristiano tant'è che giovanni afferma riportando delle parole di gesù che il maestro disse da questo conosceranno che siete i miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri la nostra vita quindi deve essere radicata e fondata sull'amore in modo tale che insieme a tutti quanti i santi possiamo arrivare a conoscere e ad abbracciare come dirà poi paolo nello scrivere ai filippesi la larghezza la lunghezza l'altezza e la profondità dell'amore di cristo e quindi scopriamo che l'amore è il centro di tutta quella che è la vita cristiana della nostra relazione con dio e se all'origine della nostra salvezza esso è la qualcosa che si manifesta nella nostra vita e quindi è una conseguenza della nostra salvezza perché altrove ai romani paolo scrive che dio ha sparso il suo amore nei nostri cuori mediante lo spirito santo la nostra vita deve essere radicata fondata sull'amore un amore perfetto che vince ogni difficoltà che libera da ogni schiavitù e che caccia via ogni paura vogliamo perciò ringraziare dio per l'amore del quale egli ci ha amati anche quando noi eravamo peccatori perché così dice paolo nello scrivere agli efesini vogliamo adesso realizzare sempre di più nella nostra vita questo amore seguendo l'esempio di cristo camminando quindi in permesso e disponendoci a imitarlo in tutto e per tutto perché come dice ancora gesù l'amore vero è quello che è capace di andare oltre ciò che ci viene fatto o dato infatti nel famoso sermone sul monte gesù diceva che se noi amiamo i nostri amici se noi facciamo del bene a quelli che ci fanno del bene non siamo diversi dai pubblicani da coloro che cioè non credono nel creatore del cielo e della terra la vera differenza la facciamo quando con l'aiuto di dio riusciamo ad amare anche i nostri nemici a fare del bene anche a chi ci fa del male a sostenere coloro che si trovano nel bisogno non dimentichiamoci e concludo quella che è la meravigliosa parabola del buon samaritano gesù racconta di questo uomo che scendeva da gerusalemme verso gerico che viene assalito aggredito la parte dei predoni che viene lasciato esamine lì a terra ebbene un religioso passa ma fa finta di non vedere un altro o cambia strada c'è solo un uomo un samaritano uno che non apparteneva al popolo del signore che si ferma lo cura lo fascia lo mette sul proprio sulla cavalcatura del proprio asino e poi lo porta fino alla locanda lasciandolo in cura ad un host e promettendo che avrebbe rimborsato tutto quello che avrebbe speso in più rispetto a quello che gli stava dando per poter curare le ferite di quell'uomo e questo amore che era un amore disinteressato che era un amore mostrato verso uno sconosciuto che era un amore mostrato verso un nemico è l'esempio di quell'amore grande che il signore ha avuto verso di noi di quell'amore grande che il signore ci chiede che abbiamo verso il prossimo dobbiamo crescere in questo ambito certamente credo che nessuno di noi quando si parla di amore si può ergere a maestro dell'altro ma tutti dobbiamo fare ammenda dobbiamo riconoscere che siamo mancanti e dobbiamo prodigarci affinché l'amore di dio possa traboccare nella nostra vita e lo possiamo mostrare agli altri ai fratelli alle sorelle nella fede ai nostri amici ai nostri familiari ma anche a quanti in questo mondo sono lontani da dio proprio per questo delle volte hanno comportamenti che ci feriscono e che ci fanno del male signora aiutami aiutaci a perdonare ad amare ad essere come gesù cristo tuo figlio che dio ci accompagna ancora oggi e che la sua grazia e la sua pace sia con tutti quanti noi grazie a tutti Grazie a tutti.